Oggi possiamo cominciare a vedere e a toccare con mano che la disciplina di bilancio paga, la disciplina di bilancio conviene, perché anzitutto la credibilità della nostra impostazione ferma di disciplina di bilancio ci ha consentito, spalleggiata e condivisa dall'Unione Europea, di non dover rincorrere come altri hanno dovuto fare il continuo peggioramento dei dati della congiuntura con incrementi di tassazione o riduzione delle spese per tenere il passo. Con queste parole il Presidente del Consiglio Monti dà il via libera alla legge di stabilità. Si parte dal taglio dell'IRPEF di un punto percentuale sui primi due scaglioni di reddito con l'obiettivo di incentivare i consumi, poi il pagamento degli arretrati delle pubbliche amministrazioni, le garanzie per gli esodati e i nuovi incentivi per l'aumento della produttività. Gli strumenti messi in atto eviteranno l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a partire da giugno 2013, che viene dimezzato. Le misure adottate dal Governo non convincono tutti e il centro-sinistra solleva le proprie perplessità. Credo che ci siano cose da giustare, francamente. Benissimo la riduzione delle aliquote più basse, ma io sono preoccupato di due cose. Una si chiama sanità, perché è un conto se parliamo di regione, come parliamo di sanità. E credo che ci sia da dare un'occhiata molto precisa agli effetti che i tagli sulla sanità possono provocare e provocheranno. Secondo, cosa che non è emersa, mi pare, sui giornali ancora, voglio capire bene la questione della scuola. Perché temo di sbagliarmi, ma temo di non sbagliarmi. E sotto le parole ingegnerizzazioni, parole molto complesse, Io ci leggo il taglio di 6.300-6.400 posti di lavoro per gli insegnanti e ci leggo il fatto che gli insegnanti di sostegno nelle superiori devono far più ore di un insegnante di latino o di matematica. Io penso che si sta smontando la sanità pubblica, la si sta mettendo in condizioni, diciamo, di collasso. E questo forse perché c'è qualcuno che immagina che il nostro sistema debba scivolare verso una strisciante o neanche tanto strisciante privatizzazione. Io penso che reagiremo con durezza, perché è una manovra che al netto di tanta propaganda e di tanta fuffa conserva quel carattere di austerità a senso unico.